Il personale della squadra mobile di Vibo Valenza e il commissariato di polizia di Serra San Bruno hanno arrestato un uomo che nascondeva in casa due chili di marijuana e delle munizioni. Da giorni gli investigatori avevano notato movimenti sospetti in un'area residenziale situata nel centro cittadino e dopo prolungati servizi di osservazione, gli agenti sono intervenuti per effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'arrestato ritenuta nascondiglio di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo, infatti, i poliziotti hanno trovato la droga già imbussata per la vendita e inoltre sono state trovate anche munizioni per armi da fuoco illegalmente detenute. Al termine dell'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valenza, diretta da Camillo Falvo, il soggetto è stato arrestato e poi sottoposto agli arresti domiciliari.